salve a tutti e ben tornati e ben ritrovati qui sul canale youtube ernest channel web tv in una nuovissima puntata di sai che la curiosità di questa puntata è inerente alla salute e non solo quello del corpo ma anche quello della mente ed in particolare lo yoga che cos'è a cosa serve è una religione una disciplina chi lo sa ci informa a riguardo in modo generico ma molto chiaro l'istruttrice di yoga nicoletta napoletano di castellana grotte vediamoci il video salve a tutti e ben ritrovati in una nuova puntata di sai che oggi in particolare si parla di salute ma non solo quella fisica ma anche quella mentale quella mentale non quella brutta quella buona e ci troviamo presso il centro yoga dell'istruttrice nicoletta napoletano di castellana ciao nicoletta namaste che significa saluto il divino che è in te namaste namaste allora molto bene e oggi si parla di yoga che cos'è la yoga nicoletta lo yoga è un'antica disciplina indiana che rafforza tantissimo il sistema immunitario lo yoga agisce su vari livelli fisici corporei e mentali migliora la circolazione migliora il sistema linfatico sicuramente muscolo scheletrico riduce lo stress migliora l'insonnia porta pace e serenità interiore beh effettivamente già mi sento pure io rilassato stare qui vicino a te che mi parli con questa calma e tranquillità volevo sapere se lo yoga è una religione assolutamente no anzi come dicevo prima è una vera e propria disciplina che porta attraverso l'esercizio fisico noi facciamo delle posture chiamate asana e quindi attraverso proprio questo esercizio fisico movimento e poi attraverso il rilassamento ad un profondo benessere molto bene e un'altra bellissima domanda ma a che età si può iniziare a fare lo yoga e diciamo a tutte le età ormai lo yoga si fa già dalla fase prenatale cioè quando il bambino nella pancia della mamma si possono attraverso delle posture della mamma mandare dei segnali positivi al bambino e poi subito dai due anni tre anni in poi fino ai 90 anni si può praticare benissimo yoga quindi quasi quando alla mia età 90 io sto quasi vicino ai 90 benissimo tu vedete li porti bene con lo yoga sembrerai ancora più giovane visto che lo yoga ringiovanisce ok andiamo ancora avanti con un'altra bellissima domanda ma la prova lo yoga per i bambini è uguale a quello degli adulti hai fatto bene a farmi questa domanda perché dicendo che lui si può praticare a tutte le età cominciando da piccoli ci sono però delle differenze perché lo yoga per bambini viene fatto in una maniera molto più ludica e giocosa i benefici sono come quelli che hanno gli adulti e quindi serenità rilassamento aumento dell'autostima aumento delle prestazioni fisiche mentali sono tantissimi benefici anche per quanto riguarda i bambini però ripeto viene fatto in maniera molto più giocoso la lezione di yoga per bambini consta di alcuni picchi proprio di giochi di energia che portano il bambino a un grande divertimento e poi piano piano attraverso lo stesso le posture che sono comunque adatte ai bambini anche se ci sono alcune simili agli adulti attraverso le posture e poi attraverso i mantra attraverso il rilassamento e l'uso delle campane tibetane il bambino arriva ad uno stato di profondo benessere rilassamento ok nicoletta e allora ci faresti vedere qualche posizione certo andiamo di là sul tappetino così mostriamo ok nicoletta siamo nel nel centro e quindi abbiamo anche michele che ci farà vedere cosa ci farà vedere ci fa vedere una posizione molto bella e la posizione che a me personalmente mi ha fatto innamorare dello yoga ed è virkasana la posizione dell'albero adesso michele ve la mostra virkasana questa posizione è una posizione di equilibrio quindi potrebbe sembrare semplice però inizialmente non è facile fare questa posizione bisogna lavorare molto sulla muscolatura sulla respirazione che è fondamentale nello yoga perché aiuta sia la capacità polmonare però la concentrazione è tutto quello che serve virkasana è una posizione che si fa su una gamba essendo una posizione equilibrio con le braccia rivolte verso l'alto e nel farla bisogna proprio pensare alla stabilità di un albero e sentirsi stabili e forti come un albero e sono questi poi i benefici che porta oltre tranquillità serenità mentale e concentrazione molto bello e molto interessante grazie michele e amaste hai imparato anche questo senti io sono stato preso da sta cosa mi fareste vedere un'altra vediamo un'altra un'altra asana te ne facciamo vedere un'altra vogliamo osare diciamo che lo scopo dello yoga non è questo però vogliamo farvi vedere sirsha sana che viene definita la regina delle posizioni che è la posizione sulla testa ripeto ci sono tantissime asana ci sono centinaia di asana nello yoga e ognuno serve ad una determinata a un determinato scopo in generale tutte le posture che noi facciamo lavorano molto sulla colonna vertebrale e quindi come ho detto all'inizio migliorano tantissimo l'apparato scheletrico muscolo scheletrico rafforzano la schiena aprono il petto e questo ci permette di avere una respirazione più profonda che è fondamentale visto che alla maggior parte delle persone la respirazione è bloccata invece grazie allo yoga e al rilassamento viene molto migliorato questo aspetto per curiosità vi facciamo vedere sirsha sana ripeto la regina delle posizioni questa posizione lavora molto sul sesto chakra cioè sulla testa che è quello che ci collega all'universo è la sede della nostra intuizione della nostra energia e quindi in questo modo attraverso sirsha sana portiamo automaticamente il praticante al rilassamento quindi alla fine al rilassamento e alla meditazione che è un momento fondamentale nello yoga perché è il momento di comunione con se stessi ed è quello che porta pace e serenità prego ora cosa sta facendo? si sta preparando per praticare sirsha sana e dove diciamo con che concentrazione viene fatta tutto questo? come dicevo prima c'è bisogno di lavorare prima sia fisicamente per rafforzare le braccia tantissimo la muscolatura delle braccia delle spalle e quindi ci sono delle asana preliminari che si fanno prima di avere sirsha sana e poi anche come dicevi tu bisogna lavorare molto sulla concentrazione sul rafforzamento anche sul superamento e rafforzamento delle proprie paure perché fare le posizioni invertite vuol dire anche simbolicamente affrontare le proprie paure e quindi superarle e andare avanti quindi non a caso chi riesce a fare sirsha sana, questo mi è capitato attraverso i miei praticanti, riesce anche nella vita a superare determinati momenti difficili che può essere anche un esame di scuola però le cose vanno di pari passo diciamo Michele hai superato l'esame però toccatino chi mi do propenso per lo yoga? beh dopo tutto questo volevo sapere se ci sono delle controindicazioni allo yoga in generale no, in generale no perché quello che noi raccomandiamo è di lavorare ognuno secondo il proprio ritmo, secondo il proprio fisico secondo i propri tempi, quindi mai esagerare nella pratica delle posizioni quindi in generale no, delle controindicazioni possono essere quando si è affrontata una operazione quando ci sono delle lesioni gravi alla schiena, agli arti, agli occhi, solo queste però in generale no, anzi lo yoga aiuta tantissimo a migliorare lo stato, il proprio stato di salute ripeto poi ogni posizione forse ha delle piccole controindicazioni ma questo è relativo in questo poi ci sono gli istruttori che seguono i praticanti nella loro pratica grazie Nicoletta speriamo che i suggerimenti di quest'altra puntata di Sai che sono stati utili e vi siano piaciuti Sai che può interessare o coinvolgere anche te ciao namaste ciao Miche ciao Miche ciao ciao ciao